Sul tabello 5, ragazzi 30 kg, Zannaboni e Doardo Monaldi-Gristian. Zannaboni-Monaldi, si preparino per i calciugli di 29 kg, Feliciani-Mandello, Cipioni-Mandello. Sul podio, Pulcini, primi classificati, Erbini, Serema, Ragnacci e Flavio. Grazie a tutti. 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 Capito numero 3, Grasso Pasquale di Costanzo Ricco, a seguire, Venerans Quattro Sariase di Antumotini, al piedino e anche in giro pezzo. Esambienti se trattate i piedi, si presentino a pezzo 6, Degami di Tiziano, Boccai di Giorgio. A seguire si preparino Stemmanuei e Alessandro, Camuso Pontia, a pezzo 6. Dico Scanzo è il tappeto numero 3, si presentano al tappeto 2, Chia, Chia, Mella, Federico e Roderio di Sè. Dico Scanzo è il tappeto numero 3, dice Santana. Sul quadro, Cosa Chietto, 53,5, terzo classificato.